buongiorno a tutti i telespettatori di tv dodici e ben trovati in diretta anche in questa mattinata per l'appuntamento live il primo in diretta di questa giornata quello dedicato alla rassegna stampa allora andiamo a vedere i quotidiani di oggi eh mercoledì sei e dicembre vediamo come sempre la stampa nazionale prima di tutto con il corriere della sera che apre con i funerali di Giulia eh Cecchettin Giulia ora sei una stella titola il eh corriere riportando le parole del padre di eh Giulia durante il funerale in migliaia per l'addio a Padova il vescovo dice amate di più e meglio la sorella mi farà da angelo custode le lacrime gli applausi il rumore il padre che ha detto ti lascio andare aiutaci a eh cambiare e poi il mio appello agli uomini sono sempre le parole eh del eh padre di eh Giulia che ha iniziato così il suo eh intervento la sua lettera carissimi tutti abbiamo vissuto vissuto un tempo di profonda angoscia ci ha travolto una tempesta terribile e anche adesso eh questa pioggia di dolore sembra non finire mai ci siamo bagnati infreddoliti ma ringrazio le tante persone che si sono strette attorno a noi per portarci il calore del loro abbraccio e poi ancora vediamo l'articolo di Aldo eh Cazzullo che scrive perché può essere un tornante della eh storia ci saranno ancora patriarchi ma per fortuna ci sono anche dei padri ieri il padre di Franca Viola oggi il padre di Giulia eh Cecchettini allora andiamo ad ascoltare un breve strato dell' intervento proprio del padre di Giulia il femminicidio è spesso il risultato di una cultura che svali che svaluta la vita delle donne vittime proprio di coloro che avrebbero dovuto amarle e invece sono state vessate costrette a lunghi periodi di abusi fino a perdere completamente la loro libertà prima di perdere anche la vita il vero amore non è né fisico né romantico il vuore amore è l'accettazione di tutto ciò che è è stato sarà e non sarà ti penso abbracciata a lei e ho la speranza che stretta insieme il vostro amore sia così forte da aiutare Elena Davide e anche me non solo a sopravvivere a questa tempesta di dolore che ci ha travolto ma anche ad imparare a danzare sotto la pioggia voglio sperare che tutta questa pioggia di dolore fecondi il terreno delle nostre vite e voglio sperare che un giorno possa germogliare e voglio sperare che produca il suo frutto di amore di perdono e di pace addio Giulia amore mio facciamo un rumore per non dimenticare Giulia titola repubblica nel taglio alto in 10.000 ai funerali e poi invece vediamo il titolo di apertura di repubblica la battaglia sui diritti il salario minimo salario il colpo di grazia scrive repubblica bagarre in aula durante la discussione sugli emendamenti conte strappa il testo schlein parla di governo di sfruttatori e tolgono le firme mattarella dice la costituzione non propone il concetto di lavoro come merce e poi c'è il commissario europeo schmidt che dice le paghe basse frenano produttività e crescita vediamo nel sommario anche il ministro eh Giorgetti che sul patto di stabilità dice no a regole troppo stringenti sul patto di stabilità vediamo anche la stampa il lavoro espelle 44 mila mamme ogni giorno 120 donne costrette a dimettersi dopo aver avuto un figlio mattarella parla di dignità eh calpestata e poi il dibattito sul salario minimo pd e cinque stelle strappano la proposta per protesta aziende utili record retribuzioni ferme dice la stampa e poi anche qui vediamo l'eredità di eh Giulia mia figlia non è morta in vano e poi anche l'umanità di un padre vediamo anche il manifesto personale e politico può come può accadere tutto questo scrive il manifesto al funerale di Giulia Cecchettin suo padre Gino scuote la folla da lui stesso chiamata per fermare la violenza sulle donne bisogna parlare ai maschi e non chiamarsi fuori ancora quotidiani nazionali il gazzettino Giulia il grande abbraccio a Padova nella basilica e in prato della valle sotto la pioggia diecimila persone hanno partecipato al rito il richiamo del vescovo cipolla rivolto ai giovani nella libertà voi potete amare meglio e eh di più andiamo anche sulla prima pagina del fatto quotidiano che invece apre su un'altra notizia deportare i migranti in Albania costa dieci volte più che tenerli qui duecento milioni l'anno in Italia bastano diciannove milioni per gestire tutti i cpr la spesa esplode scrive il fatto quotidiano ratifica dell'accordo con e di rama per ogni richiedente asilo lì in Albania spenderemo il trenta per cento in più rispetto al costo nel nostro eh paese dalla prima del fatto quotidiano andiamo adesso sull'identità e tutti giù per al terra scrive il l'identità mentre alla cop 28 infuria la polemica sul fossile gli arabi hanno pronto il fondo che rastrellerà gli investimenti sulle rinnovabili per assumere il controllo anche del green deal mentre l'occidente è nel pieno di una crisi senza precedenti fra impoverimento e denatalità così i capitali del golfo si comprano le democrazie e finanziano il modello islamico in europa chicco testa dice fra sole investimenti e ritardi dell'unione europea stanno vincendo la sfida chiudiamo anche l'identità e vediamo la prima pagina di libero emergenza capre scrive libero un popolo di ignoranti andiamo a vedere perché i dati oxe italiani bocciati in matematica il livello del sud è 15 punti sotto la media mondiale gli uomini non capiscono quel che leggono esportiamo cervelli alleviamo capre scrive libero non c'è niente di più terribile di un'ignoranza in azione dicevano gli iperattivi del romanticismo dalla prima di libero andiamo sul giornale patto rivolta contro berlino la partita dei conti la germania insiste per l'austerity e costringe l'italia a dire no alle nuove regole e anche parigi è pronta a ribellarsi no a regole troppo stringenti che ostacolano la crescita no a impegni impossibili da mantenere imposti da berlino che da mesi avvelena il negoziato sul patto di stabilità con richieste di austerity a misura delle sue esigenze di politica interna e intanto cresce la tensione in mezzo europa ieri il ministro giorgetti ha fissato davanti a camera e senato i paletti dell'italia per poter aderire a un accordo sostenibile ancora andiamo anche sulla verità che anche oggi apre con l'inchiesta per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che vede tra gli imputati anche luca casarini la faida per la gestione dei soldi tra casarini e la figlia di strada nelle carte dell'inchiesta di ragusa lo scontro totale mosso dall'ex tuta bianca all'erede di gino prima entra nel direttivo della ong poi insulta lei e il marito definendoli rosa e olindo quindi riesce a sbatterli fuori e comandare proprio sull'uso di quei fondi nasce il processo oggi è prevista l'udienza andiamo anche sulla prima pagina delle sole 24 ore che apre con piazza affari che supera quota 30.000 la borsa di milano segna più 0,56 per cento e arriva a un livello che non toccava dal 2008 i btp tornano sotto il 4 per cento gli operatori prevedono un taglio dei tassi a marzo e poi anche su repubblica vediamo le parole del ministro giorgetti dire no a impegni impossibili sul patto con unione europea e a centropagina invece andiamo in medio oriente situazione apocalittica scrive il sole 24 ore l'allarme dell'onu nella striscia nessun luogo è sicuro dall'economia adesso passiamo allo sport con le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali vediamo gazzetta tutto sport e corriere dello sport eccole qua tutte e tre le prime pagine il milan si rifà in tre scrive la gazzetta dello sport crunic via 10 milioni apre la strada al nove poi chi vi ho in prestito e rilancio per miranda david guida la rivolta scusate la rivoluzione per la rimonta leao torna di moda dunque stupisce col gonnellino e si prepara a rientrare forse già con l'atalanta tanto ieri si è giocata la coppa italia è passata la lazio ecco qua nel taglio alto tutte le notizie questa sera fiorentina parma e poi la nazionale femminile l'impresa delle donne restano tra le euro big nations league 3 a 0 alla svizzera andiamo anche sulla prima pagina del corriere dello sport juve sogno anguissave nerdi la super sfida nei giorni scorsi contatti con la gente giunto lì ci prova muro napoli clausola da 45 milioni ma vale solo per l'estero dell'aurentis non tratta il club bianconero si muove anche su samargi samarzic con e philips e sudakov ancora andiamo anche sulla prima pagina di tutto sport per chiudere il giro juve è come con conte nel gruppo di allegri rivedo la fame e la voglia che avevamo noi fa bene lui a tenere tutti sulla corda intervista ad alessio vice tecnico dei tre scudetti la stampa locale adesso messaggero veneto piccolo gazzettino vediamo subito il messaggero veneto di udine che apre con il funerale di giulia cecchettin ecco qua il titolo di apertura cambiamo per giulia in chiesa al toccante messaggio di papà gino il vescovo ai giovani amate meglio e di più queste le le parole appunto del vescovo e anche del papà di giulia durante il funerale a a padova migliaia di persone tantissimi giovani per l'ultimo saluto alla ragazza uccisa dall'ex fidanzato questa è l'apertura ma andiamo a vedere anche le altre notizie che troviamo di spalla per quanto riguarda udine e san domenico chiede più illuminazione e video sorveglianza e poi invece a cividale da gennaio sarà ampliata l'isola pedonale ancora ad aquileia ricordati i 25 anni dell'unesco pronti a nuove sfide nel taglio basso vediamo la mostra dedicata a gino valle l'architetto sperimentatore è una mostra che sarà allestita a udine nel centenario della nascita di gino valle l'occasione è una data il 7 dicembre 2023 a 100 anni dalla sua nascita andiamo a vedere anche la prima pagina del fascicolo dedicato alla città di udine si parla città dell'ancora dell'indagine realizzata dal sole 24 ore che ha promosso la provincia friulana quanto a qualità della vita città promossa anche dai cittadini sanità logistica e sicurezza le criticità la qualità della vita è alta dicono gli udinesi chi si lamenta dovrebbe guardare altrove ma c'è anche chi dice era meglio anni fa e vediamo anche nella pagina accanto l'opposizione che non ci sta all'ex amministrazione i meriti del primo posto Michelini dice il risultato è frutto del lavoro fatto da tutto il territorio barillari aggiunge vorrei sapere quali sono i meriti del sindaco detoni chiudiamo il messaggero veneto di udine spostiamo la nostra attenzione sullo stesso quotidiano ma edizione di pordenone anche qui vediamo gli stessi titoli in primo piano di spalla invece la confisca la casa confiscata alla criminalità destinata a scopi sociali poi il gestore dei due locali di piancavallo arriva dalla zona dallo zoncolan e il questore racconta anche io ho rischiato di essere eh raggirato dai eh truffatori eh che si fingono tecnici del gas ma eh dicono anche eh di eh eh chiedono anche dei soldi per eh figli che hanno avuto degli incidenti cosa assolutamente eh non veri quindi attenzione a non cadere nel tranello nel taglio alto eh si parla ancora della legge di stabilità eh regionale che la prossima settimana inizierà l'iter in consiglio agricoltura e imprese altri trentanove milioni di euro nella legge di eh stabilità vediamo la prima pagina del fascicolo di Pordenone e Pordenone famiglie e nuove povertà inoltre quattrocento rischiano di rimanere senza casa sono centonovantacinque i casi di alloggio oggetto di sfratti esecutivi o mancati pagamenti di rate ci sono poi ottantotto persone in strada o con sistemazioni di fortuna e diciotto senza eh dimora questa la situazione a eh Pordenone e poi vediamo appunto eh tutti i dati nel nell'articolo dal eh messaggero Veneto andiamo adesso sulle pagine del eh gazzettino del eh Friuli vediamo in eh apertura il bonus bebè la ricetta della eh regione il Friuli si colloca tra i territori in cui nascono meno eh bambini l'assessore Rosolaine mette in campo una serie di nuove eh iniziative rette per eh i nidi eh tagliate e baby sitteraggio a prezzi e contenuti possibilità di lavoro per le mamme si prova così a eh riempire le eh culle andiamo nel eh taglio centrale adesso e eh appunto a proposito di eh truffe ai eh danni di persone anziane ma eh non solo l'ennesimo episodio in provincia signora c'è una fuga di gas esplode tutto ma è la solita eh truffa e ci sono i consigli delle forze eh dell'ordine raffica di multe per la polizia locale eh della comunità del Friuli orientale con venticinque agenti e una rete di duecento telecamere sono state quasi quattrocento le violazioni accertate da parte della polizia locale della comunità del Friuli eh occidentale e poi invece nel taglio centrale si parla di Lignano. Lignano e il suo indotto valgono uno virgola trentacinque milioni eh di euro. È quanto emerso da un'indagine che è stata eh presentata ieri in camera di commercio a Udine. Allora andiamo a sentire le voci che Davide Zanirato ha raccolto alla presentazione appunto dei risultati di questa indagine che ci dicono anche qualcosa eh di più. Vediamo. È la prima località in termini turistici produce oltre il cinquanta per cento delle presenze ma eh mai si parla di valori di peso economico di quanto l'area Lignanese eh contribuisce al PIL regionale. Bene con oggi abbiamo una misurazione fatta da uno studio esterno diciamo al nostro territorio. Eh l'abbiamo calcolato per tre tre comuni pilota eh Lignano, Latisana e Marano e abbiamo ottenuto questo valore eh del PIL un miliardo prevalentemente imputabile alla direttamente indirettamente eh al turismo e naturalmente qua Lignano fa la parte eh principale perché è il soggetto che solamente da solo raggiunge quasi settecento milioni di fatturato annua. È un pilastro all'interno del turismo regionale e non solo perché Lignano all'interno del G20 spiagge sicuramente il turismo balneare continuerà ad avere il suo impulso ed è l'asse trainante. Il turismo nautico perché costituisce eh un asse economico a sé stante e sicuramente il contesto sportivo perché approfitto anche per annunciare che dal prossimo anno ci sarà anche il liceo sportivo all'interno degli istituti di Brazzà. Noi abbiamo l'ambizione di poter sviluppare anche questo contesto assieme all'entroterra che ci ospita e per questo abbiamo anche deliberato uno studio di fattibilità per una candidatura alla eh nel contesto dell'UNESCO e che riguardi proprio tutto il contesto lagunare e eh nostra intenzione è presentare anche eh la candidatura layoff duemilaventisette. E rimanendo in ambito di turismo ci spostiamo a eh Udine per parlare dell'introduzione della tassa di soggiorno Scalettaris dice dare risposte agli eh albergatori. Salendo eh sempre di spalla sulla prima pagina del gazzettino del Friuli vediamo la sanità, ieri lo sciopero dei medici scontro sui numeri della protesta in eh corsia. Andiamo anche nel taglio alto eh dove eh per quanto riguarda gli spettacoli eh vediamo questa iniziativa della cineteca del eh Friuli legata alla eh mostra allo specchio dell'era Kennedy realizzata dal comune di eh Gemona allestita in Castello a Gemona fino al sei eh giugno. Questa sera eh ci sarà una proiezione eh particolare eh vediamo appunto proprio in queste immagini. Andiamo a sentire anche il sonoro di questo inizio di intervista a eh Kennedy e eh alla alla moglie. Ecco vediamo abbiamo visto proprio un breve eh estratto eh del di una serie di interviste eh televisive trasmesse dall'emittente statunitense CBS person to person interviste inedite eh in eh Italia e eh appunto in questa eh intervista vediamo protagonisti eh proprio eh John Kennedy e eh la moglie Jacqueline un mese dopo il eh matrimonio. L'intervista sarà proiettata questa sera alle venti e trenta al cinema sociale di eh Gemona. A seguire ci sarà anche un'altra proiezione a sta la vittoria sempre di eh Santiago eh Alvares con Ernesto eh Ceghevara. Tutto materiale storico prezioso eh della Cineteca del eh Friuli. Dalla pagina degli spettacoli a eh quella sportiva allora andiamo nel taglio basso della prima pagina del eh Gazzettino e vediamo per quanto riguarda il calcio eh Pozzo è fiducioso. Abbiamo superato il blocco in attacco ha detto il parone poi per quanto riguarda il basket invece oggi giornata di campionato Old White West e Gesteco stasera sul parche bisogna eh vincere e allora tra poco entreremo nelle pagine sportive dei quotidiani eh locali di oggi prima però facciamo un passaggio anche sulla prima pagina del piccolo di eh Trieste vediamo anche qui in apertura il funerale di eh Giulia eh Cecchettin e poi invece di spalla le altre eh notizie di eh cronaca con la situazione eh del Silos a eh Trieste l'area eh spesso eh utilizzata come ricovero da decine e decine di migranti irregolari i politici entrano nel Silos ma di piazza frena e dice lì non farò eh niente questa una eh delle notizie che troviamo oggi sul piccolo di eh Trieste ma adesso iniziamo a sfogliare le pagine sportive dei eh quotidiani eh di oggi vediamo il eh messaggero veneto che eh titola in apertura Luca è meglio di success il nigeriano segna con il contagocce l'italiano è eh già eh quota eh quattro le statistiche lo premiano anche nella partecipazione ai gol al quarantadue per cento rispetto all'otto per cento del rivale per il posto da eh centravanti queste le eh parole eh le le il titolo di eh apertura del messaggero Veneto e poi vediamo nel taglio basso Gino Pozzo è tornato al Bruseschi stavolta scatta l'incoraggiamento ancora vediamo anche nella pagina accanto eh un'intervista a Antonio Manicone l'ex centrocampista eh bianconero che guarda alla eh sfida di sabato contro l'Inter e dice l'Inter è la squadra da batteri adesso e all'Udinese manca eh tranquillità in eh classifica e poi vediamo appunto tutta tutta l'intervista che lascio eh a voi eh leggere per quanto riguarda i punti eh dice Manicone l'Udinese dovrebbe giocare al centodieci per cento delle possibilità e l'Inter al sessanta per cento delle sue difesa se togliamo i tre gol presi dal Benfica in Champions quella nera azzurra è ermetica in attacco Lautaro Martinez è un fenomeno ma la vera sorpresa è Turam c'è la mano di Inzaghi Manicone che dunque aiuta a leggere il prossimo avversario dei eh bianconeri dal messaggero Veneto al eh gazzettino e vediamo anche qui le pagine sportive con l'articolo richiamato eh in prima pagina Pozzo dice in attacco ci siamo eh sbloccati il numero uno dei bianconeri analizza il match senza sconti ai suoi giocatori abbiamo tenuto novantasei minuti potevamo tenere anche per novantasette diamoci da fare questa eh l'analisi e l'esortazione di eh Paron eh Pozzo e poi ancora per quanto riguarda i precedenti delle ultime sfide contro l'Inter ai nerazzurri cinquant'un vittorie su cento ventisette i eh pareggi andiamo a vedere adesso anche eh le pagine dedicate al basket perché come detto eh questa sera eh le friulane sono in eh campo Old Wild West a Piacenza gesteco eh da eh svolta stasera c'è il turno infrasettimanale come dice la Sigecco non dà riferimenti eh sul fronte Cividale Pillastrini avvisa bisogna allontanare il rischio dell'ultimo posto in eh classifica e poi eh vediamo ancora eh anche le eh pagine del messaggero Veneto in cui si parla appunto sempre di basket andiamo a riprenderla in questo eh palleggio tra i due quotidiani locali ecco qua il messaggero Veneto eh titola svolta per eh due la più a Piacenza cerca di tornare al successo in trasferta la web con orzi nuovi per interrompere la serie di quattro K.O. eh di fila Alibegovic dice anzi eh alza la guardia e dice sarà eh dura parola del Pilla è una eh partita eh fondamentale Udine in campo alle venti e trenta Cividale al Palagesteco alle venti allora andiamo a vedere anche il servizio della nostra relazione sportiva che fa il punto su questo turno infrasettimanale di basket C'è poco tempo per metabolizzare i risultati che dietro l'angolo c'è già un altro infrasettimanale per le squadre del basket del Friuli Venezia Giulia o meglio per Udine Cividale visto il rinvio della gara di Trieste al 24 gennaio intanto la pressione sulla capolista Bologna continua da parte di Bianconeri così come di Forlì e di Trieste Udine che ha fermato anche Nardò lasciando il Carnera ancora inviolato con Delia che per fortuna non si è fatto nulla di grave e portando la propria differenza canestria più 120 10 punti a gara in più degli avversari ovviamente parliamo di media contro i pugliesi ha colpito la solidità la gestione del ritmo e la qualità della difesa fino all'ultimo possesso per non lasciare nessun bagliore di speranza alla seconda squadra che si ferma Udine dopo una lunga striscia di vittorie erano 8 per la F e 7 per Nardò ne ha ora 6 Trieste che però come detto tornerà a giocare direttamente domenica quando proprio al Carnera arriverà Verona che nell'ultimo periodo storico per la PU è stato cliente scomodo e foriero di brutti ricordi quella Verona che intanto ha regolato Cividale con una partita solida un tentativo di rimonta ducale ormai inatteso e finale al veleno scatenato dal censurabile intervento di Dell'Agnello su penna per la squadra di Pilla Strini è un momento difficilissimo con una sola vittoria all'overtime contro Rimini ottenuta nelle ultime nove giornate ora arriva Orzinuovi in Friuli e con il nuovo arrivato Grant Basile subito da 24 punti e 12 rimbazzi la gara non si preannuncia facile Orzi è chiusi poi in trasferta riposata per il rinvio della gara con Trieste inutile nascondere come i prossimi cinque giorni per le acque il giallo blu siano un vero spartiacque della stagione anche perché con Rimini fresca di firma di Ciccio Pellegrino che pare essersi rimessa in moto i margini di manovra rischiano di diventare sempre più ridotti per provare a evitare i play out E con questo servizio di Stefano Giovampietto noi chiudiamo questa nostra prima diretta di oggi ricordandovi che oggi non ci sarà il consueto appuntamento con ore 12 perché dalle 11.55 saremo di nuovo in diretta ma per seguire la partita dell'udinese primavera che a Torino affronterà appunto il Torino in Coppa Italia il pomeriggio invece come sempre dalle 15 l'appuntamento con pomeriggio calcio poi dalle 19 la fascia informativa serale con il TG Sport il TG News 24 e sbotta e risposta a seguire Tam Tam alle 20.45 io sono Friuli Venezia Giulia e alle 21.15 e tag in comune che questa sera ci porterà ad Aquileia alle 22.30 la partita di basket Piacenza contro Udine. È tutto per questa nostra prima diretta grazie come sempre per la vostra attenzione e buon proseguimento di giornata a tutti voi.